Prima o poi tutti hanno voglia di uccidere qualcuno. Abel e Marianne vivono insieme, fino a quando Marianne non lascia Abel, perché aspetta un figlio da Paul, il miglior amico di Abel. Nove anni dopo, il cuore di Paul si ferma. Abel e Marianne si riavvicinano, ma Yves, sorella di Paul, innamorata da sempre dell'amico del fratello, vuole Abel e dichiara guerra a Marianne. A complicare tutto poi c'è Joseph, figlio di Marianne e Paul. La densità del nuovo film di Louis Garel impressiona quanto la sua opera prima. Col tema della filiazione, Garel si iscrive nella storia del cinema e si diverte a evocare, per poi dirottare, tutti i padri della nouvelle vague, da Truffaut a Chabrol. Fedele ma leggero, fa fruttare le lezioni dei padri e sposta più in là il movimento amoroso. Thriller sentimentale, dove ogni scena è una sorpresa, l'uomo fedele è una storia di oggi, è una storia di sempre. Grazie a tutti.